Dalla sua esperienza, le faccio una domanda più semplice, in antimafia fatti specie come quelle che sono capitati a Giuliano portano all'invio di una commissione d'accesso? In questo momento non c'è alcuna notizia sui fatti di Giuliano, ho portato io stesso in commissione antimafia altri casi, il caso per esempio del comune di Pomigliano, ho fatto richiesta di audizione, in questo momento ritengo che sia fondamentale lasciar fare alle indagini, quindi alle forze dell'ordine portare avanti quello che è il processo, anche qui si tratta di servi infedeli nel caso, qualora dovesse essere confermata la colpevolezza del dirigente e ancora una volta si vede come in realtà è forte questa simbiosi tra parte amministrativa e politica che è poi quella più pericolosa, a volte ci preoccupiamo di quelle che sono le infiltrazioni camorristiche ma in realtà l'elemento pericoloso poi interno al sistema della macchina, quindi lasciamo fare alle forze dell'ordine e dopodiché poi anche il Movimento 5 Stelle che in questa tornata è in maggioranza nell'amministrazione vedrà i passi da farsi, insomma in che modo poter poi operare per il futuro di questo comune. Cioè lei non ha paura che a Giuliano possa arrivare una commissione d'accesso? Non in questo momento. Non ci sono i presupposti per quello che sta succedendo sino ad oggi? No.